Volevo innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un'ottima partita, hanno tenuto testa ad una squadra costruita sicuramente con ambizioni diverse, una squadra costruita per vincere il campionato, fatta di giocatori importanti e noi ce la siamo giocata sicuramente con grande caparbietà, con grande ritmo, dispiace perché riteniamo di aver subito degli episodi e delle decisioni soprattutto arbitrali sfavorevoli che potevano sicuramente condizionare e che hanno condizionato il risultato in maniera negativa per noi ma che potevano invece se valutati diversamente condizionare il risultato a nostro favore. Voglio sicuramente rivedere questi episodi però francamente credo che ci fosse almeno un rigore per noi al primo tempo su Vasquez e assolutamente il rigore che è stato dato al Catania, il nostro giocatore del vino ha preso la palla di petto, questo l'abbiamo rivisto proprio qualche minuto fa e così come giudico l'espulsione di Vasquez assolutamente inopportuna perché se non era rigore quantomeno non andava espulso perché il giocatore comunque è stato agganciato al piede e quindi chiaramente quell'espulsione ci ha condizionato negativamente. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.